Etica, sostenibilità, giovani e creatività sono gli elementi su cui si fonda Labelless, un progetto legato principalmente all'abbigliamento, lanciato da alcuni ragazzi di Caralte nell'agosto del 2021 e che sta riscuotendo un grande successo nel territorio. Finora sono uscite in tutto tre collezioni, di cui la più importante è stata l'ultima che abbiamo fatto uscire poco tempo fa, è fatto sold out subito e abbiamo capito che anche in Cadore c'è questa forte necessità e volontà di cambiare il modo produttivo e di affacciarsi ad una vita più etica e green. I ragazzi di Labelless negli scorsi mesi, per dare ancora più valore alle loro idee, hanno affrontato un viaggio lungo la via della seta e della lana, che è servito da spunto per il gruppo e per le prossime creazioni. Per rafforzare il rapporto tra noi e la natura abbiamo deciso a dicembre dell'anno scorso di fare un viaggio tra l'Emilia e la Toscana, da Bologna a Prato a piedi di 130 km e anche per un po' creare un rapporto di gruppo tra noi ragazzi che lavoriamo in Labelless ormai da quasi un anno. Alle porte un nuovo interessante progetto che unisce etica, sostenibilità e mondo dell'occhiale. Nasce così la sinergia tra Labelless e Tema Optical. Da un po' di mese a questa parte stiamo collaborando con un'azienda del Cadore che si chiama Tema, probabilmente molti conosceranno, che si occupa della realizzazione di occhiali, quindi stiamo progettando questo modello di occhiali innovativo, green, made in Cadore. Questa collaborazione recentemente è stata spiegata anche in un incontro all'Urban Hub di Belluno. Abbiamo parlato dell'importanza di rimanere sul territorio, perché tendenzialmente noi giovani scappiamo, invece quello a cui puntiamo noi è rimanere qui e cercare di ricostruire quello che una volta era il Cadore, partendo proprio dall'occhiale insieme a Tema, che è un'azienda che punta tanto sulla sostenibilità, che è quello che facciamo anche noi, e vogliamo sfruttare questa sinergia per creare un prodotto che valga tanto. Potete visitare il nostro progetto sulle nostre pagine social a labels.brand e sul nostro sito labels.it.